Scusate, io sono logorroica, adesso sparatemi, però questo signore ha fatto dei gioielli per me bellissimi e voglio anch'io un giorno come Liz Taylor venire su qualche mostra tu i gioielli di orgoglio, qualcuno forse avrà visto questa fiction alla quale ho partecipato erano tutti le grandi, Gerardo Sacco che mi ha fatto anche dei belli grazie, grazie Gerardo, grazie Elena tra l'altro volevo che Gerardo ci spiegasse il premio che ricorda la puntata degli artisti